Quando io faccio questo e ripara, la parata è un tempo pieno, la sua mente fa uno, uno, non c'è uno, quindi su questo, ecco che ho creato, quindi gli do una sensazione di appoggio di parata, ma tolgo il braccio e metto questo, quindi è già un kyutai, che ci aggiungo un altro kyutai. Allora, vedete, sono tutti kyutai, uno dietro l'altro, c'è una cosa che fa vedere l'altro, però se guardate bene, non c'è contatto, tutto il corpo si muove e c'è la gamba, quindi non si attiva, quindi ho condato, vedete, se avessi fatto il suo cervello si sarebbe attivato, quindi ho usato l'altro, che nasconde il caricamento, e questo è il rimaizzo, perché l'ho fatto, pressione, e non c'è caricamento, e cosa succede? che non c'è caricamento, e ho usato la discesa sul calcio, quindi ho fatto, la sua mente si attiva su un punto, sono kyutai costanti, pieno, 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 si, l'altro dorme, va bene, ma, si, allora, adesso, facciamo qualcosa di più difficile, difficile, no? un po' più cioccolato, e te? No, adesso, tranquillo, fermo, no, che faccio? No, riesco lateralmente, vedete? è sereno, quando faccio questo, come succede a lui? Questa parte si riempie, giusto? E adesso si riempie? questo, vedete, è quello che voglio, allora, su una gamba, di ribalzo, quindi ho fatto, più, meno, più, meno, ovviamente la seconda volta funziona meno, perché lo sa, ok? quando torno giù, usa i cancelli, proviamo? allora, sinistra, 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 quindi, uno, mano per impedire il suo pugno, esco di lato, non mi interessa altro, non mi interessa che vive da questo, ecco, ha reagito, questo è un invalzo, ma, nella discesa, obliqua, torno, spalla, e sotto, quattro cancelli sì? sì, no, cosa dovete fare? in questo caso vado su questa, o su questa, perché ha cambiato gamba, ok? è il principio che mi interessa, c'è difficoltà adesso, no? andiamo a toccarla su una gamba ma c'è forza vi abbiamo visto prima non mi serve alta, mi serve solo acqua la discesa, non scendo colpisco questo impedisce di vedere questo che può essere un calcio, una sinocchiazza ok? sì? piano? chiarissimo come una volta come una volta? come una volta? bella romante allora se quando fate questo, fate così teneteli ovviamente questo vi pensa che sia finito ma finiamo così questo significa creare anche polarità nel corpo con gli usciti da terra non gli do pressione vediamo come reagite lì fuori l'ultima volta sinistra sinistra ok non gamba busto busto e guardo lì mano busto prima la mano poi sposto guardo lì alzo la gamba quando alzo la gamba guardate il mio braccio tornando giù spalla ginocchio non così niente ginocchio buon calcio va bene? la torta di qua ho capito? frittati la torta di qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti